Hanno occupato pacificamente l'aula dei gruppi consigliari del comune di Gela e da lì non andranno via fin quando non avranno certezze che, tradotto in termini molto più pratici, significa pagamento per i lavori edili in merito al tanto decantato progetto ciliegino dell'Agroverde. Loro sono gli imprenditori delle aziende che hanno lavorato in Contrada Zai dove il 14 giugno del 2013 fu posta la prima pietra alla presenza delle massime autorità politiche. Prima ed ultima pietra, ad oggi i lavori sono fermi, gli imprenditori però ne hanno le tasche piene, vogliono i loro soldi. Ci hanno dato un appuntamento oggi il 5 che era il tempo utile per... Chi vi ha dato questo appuntamento? Eravamo nell'aula consigliare col sindaco dove oggi doveva venire il rappresentante dell'Agroverde, il curatore parlamentare della Montello e tutti noi per avere chiarezza perché ci hanno dato un concordato al 7%. Ma voi che tipo di lavori avete realizzato? Lavori... io ho portato del carcestruzzo, poi lavori di Movimento Terra, tutti questi lavori di... Ma quando montano le fatture? Tutti noi ammontiamo circa 5 milioni di euro. E questi soldi chi dovrebbe darli? Questi soldi per noi ce li deve dare la Montello, la Montello a sua volta li deve prendere da altri, ma noi l'interlocutore è il Montello. Però post oggi noi non abbiamo soldi, abbiamo debiti, abbiamo una situazione precaria per tutti. Dunque proprio oggi doveva svolgersi un incontro in municipio. Nel momento in cui scriviamo c'erano solo gli imprenditori. La gente che ha preso questi impegni non ha preso le dovute precauzioni. C'è chi è andato a 200 all'ora a correre per questo lavoro, però le garanzie mi sembra che sono svanite nel nulla. Ora cosa succede? Ci sono altre quattro aziende che vogliono investire su questo progetto. Il signor italiano non vuole cedere questo progetto, giustamente è il proprietario del progetto, vuole gestir solo lui. Ma siccome qua è un problema sociale, c'è lui o gestisce lui o non gestisce lui, a noi ci interessa che ci pagano. Cioè noi vogliamo i soldi di quello che abbiamo fatto, poi lui può fare quello che vuole. Cioè può fare una pista dell'elicotter, a noi non ci interessa. Il giorno 5 lui, italiano, porterà la polizza bancaria affinché si risolva questo problema. Oggi è il 5, noi siamo qua. Tu che hai un impegno, che dici ci vediamo venerdì alle 10 nell'aula consigliare, il sindaco non si fa trovare, la governo non si fa trovare, il mondello non si fa trovare, cioè noi cosa dobbiamo fare. Il prefetto ci aveva garantito, tre mesi fa, che a settembre questa cosa veniva sistemata. Cioè settembre, siamo mi sembra dicembre, giusto? E questa cosa non è... Ieri il prefetto è venuto, ha detto che darà gli ammortizzatori sociali a quelli dello stabilimento. Ma noi che siamo tutti falliti, cioè stiamo depositando, no? Come ha fatto Mondello ai registri, perché abbiamo debito. No, non abbiamo niente più da poter... C'è questi signori, chi parte a destra, parte a sinistra, c'è qualcuno che la può prendere questa situazione in mano.